Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Saluti ragazzi e benvenuti in questo 25esimo episodio Della e glock a pochi diamante perla qui con noi abbiamo un tumore che oggi mi farà mettere più bip di quanti non abbia messi Figa scusa non mi ero messo d'accordo con gli ucchi Vabbè ragazzi andiamo ad affrontare saturno va Sai perché stiamo andando a portare saturno la galassia in pericolo è perché adesso è il suo turno Ma se si può che tra l'altro ci sfidi non lo so è venuta con una scritta g e una battaglia secondo te Vabbè no per la cerce il cazzo Porca troia sono davanti con archi ha sparizzato ma chi se ne ricorda Abbiamo registrato più minuti A breve termine sei già cancellata Che è un pesce rossa raga Un pesce rossa Cazzo Per forbe Ecco Però dove è finito quel pesce rossa Dai muorvi che Clayfable Porco demonio africano Attacca Stiamo un po' curlando comunque Allora devo sclerare Devo sclerare perché 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 devo sclerare Meglio averca tenuto davanti Median con terra Intar che non gli posso fare niente Deanche a voi Eh bello Invece si c'è pugno scarico Secondo me perché non ti ricordi le mosse appunto Anche Falci cannone guarda che non attacca neanche per sbaglio 15-18 Zii Bo Zio c'è ma ho fatto 8 attacchi ma ho fallito 7 volte Eh bello Fare giusto Ok Commenta Fai il commentary perché tra un attimo io sbrocco Fai il commentary Eh sto schiacciando il pulsante Bello sto pulsando Con che pulsante Che pulsante è il tuo A Eh Il tuo A Cioè il tuo corrispettivo sul Nintendo Di A Quale Ogni volta bestemmi si autoclick Ok perfetto Noi troppo Troppo Muori Ok Io finito comunque Eh io se non avessi fallito 15 foc al corpo Eh foc al colpo non ce l'ho 15 falce cannone Si creano mosse da noi Bagliore Vaffanculo Bagliore Non è anche a me Bagliore Ti abbaglio la sorella Brutto Si tua madre in calore Guarda che si paralizza Dio Bagliore è una mossa di Kriving Davvero si chiamava No no Si chiamava Colpo del sole Si chiamava Si però Beh l'effetto è quello Non è vero per un cazzo No l'effetto era che Il massimo flash Si infatti il massimo flash Infatti Oh lei ce l'ho fatta Tutto questo per chi Un sidot Eh quanto sidot è inutile Eh infatti Ok devo premere liberarli? Eh? Devo premere il pulsantino qua Liberarli giusto? Si Andatemi ai prodi Nel dubbio visto che sono già legati Puoi anche sodomizzare facilmente però Eh beh si E poi Poi in tribunale per zoofilia Ci vai tu Zofilia e pedofilia Vabbè ma Serena è una cagna Va bene lo stesso Stile minorenne Eh Oh sui cani non hanno età Porca troia Eh Ok Ok Il migliore amico dell'uomo E non solo Eh 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 Bella domanda Ma io sto girando per l'upepo Io sento per un cazzo Questa è la censura Perché è sensista Come fa che Questa è la pippo Si si Mi piace Mi do le perle che escono in questa serie Non escono Ok Mi sa che dobbiamo andare verso Monte Corona Fabrizio Ok Eh ok Quindi andiamo verso la galera Si Esatto E' una gara al photo finish Pari giusto Devo insegnare Allora Devo insegnare scala roccia Un po' Che un ora Vediamo Vediamo Io dovrei avere ancora il trico cancer Eh Eh Io Io Devo Vedere di non Tra l'altro ho due master Buon adesso mi sa Sì Eh io ho uno Oh salene D'obbligazione E si fu a fuori parte Si faceva il figlio Non uso il città Però ho messo di avere Diamante Chissà Ha sicuramente Software Resettato Chissà quanto ci ha messo Poverino Manco sapevo Magasse Soffre 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 Resettato Perché effettivamente Ci vuole una Una laurea Spegnere Di accenderla Ci avevo sei anni Già tanto che riuscivo a coordinare le dita delle mani al mio pensiero Tanto scopavi già Non c'è un problema Eh beh Palese Però vabbè 20 di due minuti Chi cazzo tolgo dalla squadra sono indecisi Io ho insegnato scala roccia snorlax Santo se sbriccio il mano era fortissimo Raga vi giuro non c'è voglia di ragionare Mi lagga il gioco Oddio Windows error Creepier Eh sì Sono un errore Sono un aborto a lungo termine Altro che Cos'è Ma sia perché se disso gli altri youtuber Poi sembrerebbe un po' light Se non mi dissassi anch'io Ah è un po' giusto Tipo se avessi detto con la roba di adesso Non potrei dire Eh sì So che sembra strano So che sembra strano Eh però devi censurare anche l'età Se non si capisce Eh ma a livello di cervello siamo a imbrione No comunque Da dove cazzo sei entrava al Montecorono Eh devi fare un giro arcano Ma dai popoli no Sì sì Eh sì No Sì Cioè o dai popoli o da Curipoli Scegli Curipoli perché? No 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 È da Curipoli Vabbè volendo con i trick con i belli Posso arrivarci anche dai popoli Eh oddio sai che non lo so? Sì probabilmente sì È un buono mi ricordo Oh Dove si è qua? Ah i repellenti repellenti Scegliere repellenti? Io sì Tato a Montecorona Abbiamo già fatto tutte le catture Sì Minchia sta cazzo di Donate un antistaminico Oddio Ho trovato la damasfera Stai scherzando? Così Che da dare di alga Io trovo palche Grazie vida Comunque sai Sai perché ci vai veloce Sul Monte Corona? Oddio Perché vai a tutta birra Ecco Un po' Sarò io di aver paura Ok vabbè io sto proseguendo fratto Mi sto correndo fast as fuck boy La creatura originale esisteva prima ancora dell'universo Crevi mettere Ok perfetto Quindi abbiamo scoperto che il yuke esisteva anche prima dell'universo Tia E diciamo anche il yuke Bacamelon Ma non è un dissing Gli sto dando del dio figa Eh beh dissi comunque vedrò Eh È al passato remoto Cioè Ciao bello sono Parmen Piacere la donna a pipistrello Con le tette e con l'uccello Dai ciasso Cos'è la sta roba veramente Miracolo il seme Se cerchi tra il cadaver di Serena Forse ne trovi un paio quella Necrofilia portami via Ma bacca enigma Mi sono trasformato in Sherlock Arca puttina L'arca di noel L'arca puttina C'è che lo spesa come cosa vero Vabbè dai più o meno Vado a sto gioco che devo riattivare i repellenti ogni santa volta Fills of the fifth gem L'inglese Occhio E si spera stato in inglese Sì m***a mi sta per ammazzare Il marlo Bacca cocca Bacca cocca che cose Cocca c'è la finale La preferita di Lucinda e Serena Eh perlomeno quello non lo conoscono molti in inglese Così che google traduttore si riempiti di cerchi su cocca Come quando si racconta un aneddoto Allora Una volta C'è la mia challenge L'ho chiamato il mio pokemon Brazzerina E faccio Non andate a cercare Brazzerina su google Cosa ha fatto la gente Ovviamente E la gente che mi dice Non dovevi fare quel E ho detto zitto Ho detto di non cercarlo Mi sa che il pelato ha preso possesso Della pagina google Ma è probabile Oddio Monte Corona È un'unica zona Quindi non abbiamo catture vero? No Unica zona Considerabile Un unico monte Della stessa conformazione Ah che Con gli stessi materiali Anche se noti bene Cioè addirittura Pensa che hai fatto di roccia Come gli altri monti Ho il budget per le texture Raffinanti Ho trovato una timable Dentro una roccia Tant'è che se cerchi bene Trovi un cartello con scritto Monte Luna Vigor cerchio Vigor madonna Action Vigor L'ho scogliato Lo che scorreggia Quella pubblicità Era la mia pubblicità Anzi è tuttora La mia pubblicità preferita Oh io sto scalando il monte Come in che direzione Non lo so So solo che figo Ho trovato un selvatico Più forte dei miei Pokémon Eh buono Perché ho usato giudizio Su Solrock Ma che cazzo Tu mori ho Peccato Madonna Il nostro momento giungerà Un momento che sarà solo nostro Ti farò tornare indietro nel tempo All'epoca antecedente ai Pokémon E la madonna Hai capito E poi ti manda in campo Spinar Puoi essere credibile quanto vuoi Però se manda in campo Spinar Non hai capito un cazzo E su un Kernia appena apparso Chi su un Kernia Sì È lui Spettacolo Azzurri Madonna Questo allenatore qua C'è dei Pokémon Veramente da fare invidia Al peggior Gennaro Bullo Adesso mi shotta E bestemmio Vado quanto è bella la nieva C'è la mia nieva La nieva Sniffa tia Nel tuo momento Quanto roba bianca Fibas Fibas C'è questo qua Mi ha mandato in campo Fibas Ma tra l'altro Ma wait a moment Quello della nieva Un percorso Porco Ah no Montecorona No è sempre Montecorona È sempre lui Sempre lui Dai su Schiata Pesce Maledetto PS su Non dirlo così Serena S'offende No Cascata Perché No Non è Non devi usarla Tranchi Ah già questa è la prima volta Che c'entra E ci voglio andare qua sopra Eh ci devi andare Finita la lega Cioè mai Perché questa serie qua Questa serie qua Non proseguo dopo la lega Non ho né cascata Nella medaglia Eh ma infatti Non puoi andarci Ma volevo andarci Eh non puoi andarci Ma volevo andarci Oh figa Chi voglio trovare Serena Non posso farlo Va bene Fatene una ragione No dimmi che non serve forza Dimmi che non serve forza Perché Ah no Tanto ce l'ho Balla shawl Ma poi non serve forza Oh ragazzi Non mi ricordo più il percorso Ma neanche io Infatti io sto andando a casa Ed è un miracolo Ma sì che serve invece Cazzo Devi il creepy No che non serve Ah no è vero che non serve Quando è che non mi chiami creepy Non mi chiami creepy Da quando mi hai contattato Su telegram scrivendo Oddio Non mi ricordo male Perché era successo Una cosa Sia tu che giù Sia tu che giù Certo Siete che gli eravate entrati Nel gruppo telegram E io non me ne ho accorto Di questa cosa In realtà Poi 5-6 giorni dopo Un mio domini fa Ma guarda che c'erano Creepy stories E Luke C'erano 125 Allora io e tia Ci siamo conosciuti Innanzitutto Questa cosa è fondamentale Da sapere Ma quanto tempo fa Si conosce Figa Da quante che ti sopporto 14 novembre Te lo chiedo qua Per non mettersi Per non metterti In soggezione Dall'altra parte Sei quello di YouTube Sì sono io Ah è un piacere Trainerti Mi fa piacere Comunque ti seguo Da abbastanza Ormai Sapere che a tua volta Ora mi conosci Mi fa decisamente piacere No è vero Non è così Sono anche stata gentile Potevo darti del cancro subito Invece guarda che fine di merda Che hai fatto Mi pare Comunque Non mi sei accorto Dai Mi pare due volte Perché l'hai riveduto Vabbò io sono quasi Arrivato in cima Comunque raga Adesso Ora che ho spoilerato Le chat private Mediti A posso mettere I tag Come prego Ok Ti dico Solo questo Dai Raga Mi ha rovinato Un video Questo video Sarà un'interferenza Unica Ok Il mio Cosa Vuole imparare Il radicamento Perfetto C'è risardo Con le radici Mi mancava C'era Ok Dovrei essere veramente Arrivato in cima Il team galassie Riuscirà ad avere il controllo Su ogni cosa Poi provare tutto quello Che vuoi Di 17 minuti e mezzo No 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 Tra anche adesso Siamo arrivati in cima Cioè almeno io Arceus infame Con tre de vita Si però Arceus Non si può sentire Arceus Perdona No è Arceus La pronuncia Porco Porco Arceus Dillo C'è un ipodown Che mi sta facendo Mega caccio Mi sta mettendo in difficoltà Cazzo mi usi Anticura Figlia di bastarda No Un ps Dai ammazzatemelo Un ps Un ps Su fiore Che con un nome così Dovrebbe essere morto Appena gli hai dato il nick Perché Magari qualche livello C'è anche perché Di alga Al 46 C'è di alga Barra palchia Sono al 47 Tra l'altro Li abbiamo randomizzati Chi si ricorda Spero che se tu Si dai Le due Fami nominare Qual è un'altra bestemmia Spero che tu Ti sia ricordato Nel caso Di randomizzare Leggendario Con leggendario E non Dario Con Normali Sennò Ci restano Dietro In sette lingue Ragazzi Se non usciranno Più video Di questa serie Hai le bolle Ma tu ci dai Le bolle Io ho due Master Non mi son posto Il problema Nella Anche io Tanto col cazzo Cattro anche Con la master Bene ragazzi Tia dove sei Penso Quasi la fine Ma ne guardo un cazzo Sto senza nafta Perfetto Intanto Continuo a scrollare Le nostre chat Nelle quali tipo Ci mandavamo I leak Di sole e luna No ma Il bello è che Io ho un trico A livello 1 In squadra Perché E perché Non potevo Disegnare Scala roccia Qualcuno In team Aspetta Chi è che l'ha fatto Non mi ricordo Ah già Io Cosa E chi è che ho insegnato Scala roccia Un po' come In team Ovviamente io Ci sono quasi Perché ti avevo linkato Il ts Della poche crew Scusami Che cazzo Se ne ricorda Madonna Quanti allenatori Mancano Porco schifo Madonna raga Quanto è Quanto è lento Quest'uomo Oh raga Ah ma cazzo Ho visto il messaggio Di Luke Su telegram Hai visto il messaggio Il messaggio Di Luke Su telegram Quale E quello Dio Cosa è successo Niente Tu l'hai visto Sì sì E beh io Comunque ero Fino a tipo Un'ora Su Ok Madonna Adesso Non diciamo nulla Ti attacciamo Non spoileriamo Oh Ah smetti di evitare Frana Porca troia Se mi lo eviti Un'altra volta Veramente te prendo Te squaglio Minchè tra l'altro Stavo facendo L'albero della lotta Qualche Un mese fa L'albero della lotta Battaglia contro Agustino Netturbino Mi utilizza Frana Io ero lì Scialla C'ho i due Pokémon A vita massima Ti butto Gli ultimo Pokémon Doppio Critical Di Frana Doppio Tentennamento E mi shot Al turno Dopo Così Da nulla Che poi Questa parte finale Del video Posso anche tagliarla C'è alla fine Non stiamo tagliando Finché non arrivo io C'è proprio Fai un taglio Finché non facciamo L'auto Va lo segniamo L'amore Beh allora Nel frattempo Cosa possiamo fare Tipo guarda Ammiriamo il team Lusinda Strumento Non c'è uno strumento A punta Da dare a Lusinda Tipo Tipo vediamo Diamo un po' Di strumenti A casa I Pokémon Tipo vediamo Abbiamo Basta Drift Blim C'hai un tumore In quella testolina Che le trovi Rega che bello Registrare Un sogno Che diventa realtà Tra l'altro Cazzo di pallarcino Che hai creduto Troppo nei suoi sogni Avrei voluto Fare tipo Tre video Oggi Però Per ovvie ragioni Tecnico Tattiche Non si potrà fare A meno che La tipa di ripetizioni Di Tia Cioè che in realtà Fa ripetizioni In incognito In realtà Succhia piselli Però Un saluto Se ci stessi Non avrei dovute farle Se non avessi fatto Il cancro Lagato Tipo avessi Lagato Ha detto Io non avrei dovuto Fare ste Ripetizioni Se non avrei Il cancro Cambiando in dritz Ah già è vero Che sei un tumore Cioè Io mi sono rovinato L'estate da solo Un po' Che parole Vabbè anch'io Non ho aperto Un libro di fisica Per tutto l'anno Ma mi va col debito Andoro Quasi tentato Di tenerla Questa Estremamente Ma natalista Che stavo Ad agosto Comunque sono in cima Ma esco Dal mondo Zio No Cioè Mi sono fatto La cacca addosso Due volte Perché Allora Ho mandato Allora ho detto C'è affrontiamo Un po' Con selvatico Oh figa Sono entrato Sua vetta lancia No spoiler Affronto Ho affrontato Stoctillery Con dark cry Ho fatto Nero pulsar Gli ho tolto Quasi tutta la vita Lui ho fatto Specchio velo Per fortuna Che avevo dark cry Di tipo buio Che Tipo buio Fratello Sorello Che cazzo Hai laggato Buo fratello Sorello Hai laggato Dicevo Sto Resto dentro Il monte Resto dentro Il monte Resta dentro Resta dentro Si rimane Sempre Quando vuoi Detto ciao ragazzi Io spero Noi speriamo Come al solito Che questo video Vi sia piaciuto Se è così Vi invito a non avere Il catarro come me E a lasciare Un bel mi piace Un commento Un'iscrizione al canale E rispondete La domanda del giorno Passate da Ambo i social Per rimanere Sempre aggiornati Su Sugiantai In sostanza Su rocket E sui gossip Attorno alla sua figura Premete la campanella Per ricevere Ogni giorno Dei pikachu Nelle top 5 In omaggio E niente Noi ragazzi Ci becchiamo Noi ci becchiamo Questa non è la censura Nemmeno In un prossimo Video Ciao Che resta Amen Grazie.